Quindi io non posso che essere naturalmente soddisfatta perché è un simbolo importante del fatto che il nostro Paese offra delle eccellenze e naturalmente perché questo significa consolidare una presenza già importante nel nostro territorio da parte del gruppo Audi e naturalmente da parte del gruppo Lamborghini che ci auguriamo che con oggi naturalmente si consolida con questo investimento che più o meno raddoppia le dimensioni dello stipelemento attuale a Sant'Agra Batolognese ma io sono convinta e continueremo a lavorare anche su questo che questo porterà anche a dei futuri sviluppi.